Buongiorno, benvenuti nella Sede Stampa di oggi 22 febbraio, si tratta di giovedì. Cosa è successo sui giornali? Tutti quanti in maniera piuttosto banale pubblicano articoli sul fatto che si debbono abbassare i toni, insomma si occupano tutti della violenza, ieri a Palermo, poi a Perugia, su Perugia le cose non sono così chiare come le abbiamo raccontate e poi dopo l'intrusione di Casa Pound, o no, di Forza Nuova alla trasmissione di Floris, mi ricordo che una cosa simile la fece anche una volta Forza Italia da Santoro, però non ci fu tutta questa eco mediatica, anzi ce ne fu per qualche giorno ma non si disse come si dice oggi su tutti quanti i giornali, Viminale, ora giù i toni, bene, ora giù i toni, sono gli stessi però che i toni mi sembra che l'abbiano un po' alzati, perché io mi ricordo non dal Viminale ma dal suo vicino di banco, cioè il ministro del Rio, che diceva sul Repubblica attenzione al fascismo e io mi ricordo tutti quanti i politici di questo governo che ci hanno spiegato che c'era un'ondata di fascisti che stava arrivando, io mi ricordo la seconda e la terza carica dello Stato che hanno detto che la responsabilità morale di quello che era avvenuto a Macerata era del centro-destra, ecco io questo mi ricordo, allora che il governo dica che bisogna abbassare i toni va benissimo, li abbassino tutti ma anche loro, poi dopo questo è lo stesso principio per cui oggi sul Repubblica leggo il pezzo di un'articolessa ma non è anche troppo lunga, questa è la qualità di Ezio Mauro, l'ex direttore Ezio Mauro che scrive anche molto bene, è sempre molto interessante quello scrivere anche se poco condivisibile, il linguaggio del teppismo, fa un articolo in cui spiega il linguaggio del teppismo, non vi perdete nulla se non lo leggete, il senso lo avete bene immaginato dal titolo che sintetizza bene il pensiero di Ezio Mauro, poi vado a vedere pagina 3, Repubblica dice il linguaggio del teppismo, poi a pagina 3 un ragazzo dirigente di Forza Nuova a Palermo è stato incaprettato ed è stato menato nel centro di una città, mentre una delinquente una vigliacca di merda lo riprendeva col telefonino e la gente intorno diceva è uno scherzo, è uno scherzo, lo stavano corcando di botte questo e questa immaginate che deve essere questa merda di donna, possiamo dirlo, che la riprendeva col telefonino e scherzava, riprendeva tutto col telefonino, certificava, come spesso avviene, le donne quando sono violenti, lo ricordano anche gli anni di piomba, sono forse la cosa peggiore che si possa immaginare, mentre stavano menando un uomo a terra, lei filmava, vi è chiaro il concetto, sanguinava, erano 10 contro uno e lei filmava, questo stupro di gruppo nei confronti di un militante di Forza Nuova è il raid antimigranti del fascista picchiato, quindi Repubblica racconta quello che è successo a questo ragazzo di Palermo raccontando chi è il ragazzo di Palermo secondo loro, cioè racconta l'avvenuto a Palermo titolando su un presunto, presunto perché dobbiamo vedere quando verrà condannato e se verrà condannato, raid antimigranti del fascista e poi ci ricordiamo picchiato, cioè la notizia diventa il suo raid antimigranti fatto anni fa e non il fatto che sia stato picchiato ieri, come se le due cose si giustificassero, allora caro Ezio Mauro, quando dici il linguaggio del teppismo, questo cos'è se non teppismo giornalistico, cioè quello di accusare un picchiato di essersela un po' cercata, chiaro? Non è così difficile, cioè è una cosa straordinaria, ti raccontano, ma sai dobbiamo abbassare un po' più i tuoni, sì abbassiamo i toni, voi venite picchiati, gli altri possono anche fare un po' le manifestazioni dell'AMPI, possono fare i centri sociali, oggi giustamente diceva Alessandro Giuli in una trasmissione televisiva questa mattina, su 70, 70 episodi di violenza, quanti, negli ultimi mesi, quanti di questi sono imputabili alle formazioni neofasciste? Sette? Sette? Gli altri 63 sono di centri sociali, antagonisti, comunisti mascherati di qualsiasi forma, allora il problema è il fascismo, il ritorno del fascismo che ha, ovviamente quando ha delle violenze bisogna condannarle, c'è poco da fare, o il problema sono dei gruppi incontrollati di anarcho-comunisti, Claudio Fava, sono comunisti, sono figli della tua cultura, non di quella fascista, i centri sociali sono quella roba là, se noi raccontiamo i centri sociali come facciamo sui giornali, come fascisti, mentre sono comunisti, è come quando noi pensavamo che le Brigate Rosse fossero figlie delle versioni di destra e non compagni che sbagliavano, come qualcun altro disse, in tempi purtroppo con grande ritardo. Che altro vi volevo dire? Stupenda oggi la lettera di Ciro Iozzino sul tempo, leggetevela, è il fondo del tempo, è il fratello di uno della scorta ammazzata via Fani, il quale dice respiro di nuovo quell'aria infame per la quale è stato possibile uccidere mio fratello e Moro e non solo loro. Questo per quanto riguarda la violenza, insomma avete capito bene come la penso su questa roba. Tajani contro Juncker, quella è un'altra grande storia incredibile, adesso lasciamo perdere l'EMA, cioè l'agenzia del farmaco che sarebbe, secondo gli italiani, abbiamo perso a favore di Amsterdam e non a favore di Milano, ma perché l'abbiamo persa? Più andiamo avanti e più ci accorgiamo che queste posizioni in Europa non sono ininfluenti, quando io sono una settimana che vi dico che sui giornali non parlano del fatto che quel genio di Padoan ha permesso che un ministro spagnolo diventasse vicepresidente della Banca Centrale Europea, fottendosene di quello che avverrà fra due o tre anni quando non ci sarà più Draghi, vi dico che oggi facciamo le scelte sbagliate in Europa che pagheremo nei prossimi anni. Arriva qua il capo del PPE, l'uomo della Merkel e Berlusconi lo tratta come una Madonna Pellegrina, invece di trattare lui come una Madonna Pellegrina sarebbe molto più conveniente, amici miei, che noi andassimo in Europa non a sbattere i pugni sul tavolo, ma a gestire funzionari, a metterli nei posti chiave. Sapete chi è il funzionario? Oggi c'è su un giornale che ne spiega in dettaglio che ha segretato tutte le carte sull'appalto dell'EMA che poi è stato vinto da Amsterdam e non da Milano? È un funzionario che è il segretario generale della Commissione europea, olandese, olandese e ha segretato tutte le carte olandesi e fino a qua potete dire ma no sono dei grandi burocrati, c'è un piccolo dettaglio che si è dimesso, nei giorni scorsi si è dimesso, c'è scritto su appunto Corriere della Sera, incredibilmente in quel ruolo si rimane 5 anni, si è dimesso dopo 2. Allora io non voglio pensare male, ma bisogna pensare male, i nostri interessi in Europa si tutelano in questa maniera, non strillando oggi in campagna elettorale, abbiamo perso l'EMA, faremo ricorso, i ricorsi sono persi, non prendiamoci per i fondelli, dovevamo avere uomini giusti, al posto giusto, con un sistema paese che invece di litigare stesse lì a conquistare le posizioni, quelle dell'EMA le abbiamo perse, oggi il Sole 24 ore è continuo, la sua, legittima, straordinaria battaglia, il Sole su questo fa benissimo, tra l'altro oggi il Sole mi è molto piaciuto, soprattutto per un pezzo di Jacopo Giliberto, vi segnalo veramente, io vorrei che voi ve lo leggeste questo pezzo di Jacopo Giliberto, perché ha fatto una cosa che tutti noi dovremmo fare, andare a vedere come lavorano quelli che stanno costruendo la TAP, che è sostanzialmente un tubo sottoterra che arriva in provincia di Lecce e per la quale Barbara Lezzi, che mi vuole dare le calci nel sedere, i comitati locali, i professori, i benpensanti, i no TAP, tutti ci dicono che quello ci ucciderà, porta 10 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaijana all'Italia ed ci rende indipendenti da fonti energetiche di altro tipo. Ma comunque sia, non voglio parlare di questo, voglio parlare del pezzo di Jacopo Giliberto che parla dei fornitori, dei biologi, degli operai, di coloro che comunque hanno a che fare come vengono trattati, quale tipo di violenza devono subire, ad esempio il racconta di colui che fornisce la sabbia che poi viene usata da un'azienda che costruirà il casotto della, insomma gli approdo della TAP, beh questo gli riceve la mattina, lo sappiamo che tu collabori con la TAP, il collaborazionista davanti a casa sua con i figli spaventati perché ovviamente oggi si viene additati come se si fosse dei delinquenti, dei criminali, da dei criminali che non vogliono fare la TAP, chiaro? Criminali non perché non vogliono fare la TAP ma per come si comportano. Napolitano tifa gentiloni, questo è un altro grande titolo oggi dei giornali e la risposta più semplice è chi se ne frega, poi dici che i giornali non vendono. Napolitano tifa Napoleone? Che il 92enne tifi un Presidente del Consiglio quando gli italiani devono andare ancora a votare? Ne discutiamo? Ma stiamo discutendo? No basta, non ne parlo più neanche io perché se no commetto lo stesso errore. Oggi non ho visto interviste da Emma Bonino sui principali quotidiani italiani, ma Emma Bonino è così, è quella che non riesce a raccogliere le firme, deve fare l'accordo con i cattolici di tabacci, lei che era per gli aborti e per tutte quelle robe là, non riesce a raccogliere le firme, fa questa lista catto radicale, ma tutti i salotti italiani la sponsorizzano. Quanto è chic votare Bonino? Non la voto, non vi dico chi voto, ma se ho una cosa certa da ex radicale convinto di tante battaglie radicali è che mi viene il volta stomaco a pensare come sia finita quella storia. Scafarto era il carabiniere che faceva le tresche con le informative con Woodcock, oggi Giuliano Ferrara sul foglio scrive un pezzo veramente interessante perché ci racconta di un fatto incredibile, cioè di un carabiniere che cerca di manipolare le intercettazioni verbali di interrogatorio a danno del Presidente del Consiglio, un carabiniere che fa una cosa di questo tipo a danno del Presidente del Consiglio e non contento, come dimostrano alcuni WhatsApp sequestrati al carabiniere, manda tutte le informazioni a un giornalista del fatto che pubblica e fa da cassa di risonanza di questa inchiesta contro il Presidente del Consiglio. Allora vi può stare simpatico o antipatico Renzi, ma vi sembra normale che nel momento di fanpage delle iene su Rimborsopoli non ci sia una riga, tranne quella di Giuliano Ferrara, sul fatto che una componente della magistratura e una componente dei carabinieri, Noe e Woodcock, abbiano operato in questa maniera per creare uno scandalo contro il Presidente del Consiglio in carica? Vedete, io non ho nessuna simpatia per niente, ma vi rendete conto? Pensate se fosse un altro governo, pensate se questa operazione fosse stata fatta, voi cari amici che ogni tanto mi seguite, fosse stata fatta nel confronto del Presidente del Consiglio e Di Maio fra sei mesi se dovesse vincere. Che cosa avreste detto? I carabinieri contro Di Maio? Un magistrato contro Di Maio? Ma sarebbe una cosa incredibile immagino anche per voi. Zonin oggi mi sembra che sia il Repubblica che lo racconta bene. Vedete, Zonin c'è un'azienda molto importante, Vinicola, che fattura 193 milioni e ha utili per 3 milioni. Nel 2015 si è spossessato di tutti i suoi beni, 2.500 ettari tenute in giro per il mondo, grazie alla sua grande capacità evidentemente sul vino, non altrettanto nei confronti della banca che ha gestito la Popolare di Vicenza, tra l'altro banca che gli ha dato 180 milioni di prestiti secondo quello che leggo oggi. Si è spossessato due anni fa di tutti i suoi averi, le date ai figli e alla famiglia. Allora, se Zonin però ha commesso dei reati e ha commesso degli errori giudiziari che dovranno essere accertati dalla magistratura, non dei giornali scandalistici, l'idea che uno riesca a spossessarsi di tutti i suoi beni per non pagare un prezzo alla giustizia è una cosa che irride ed è contro qualsiasi buonsenso liberale. Detto questo sappiate quello che succede, ovviamente 6 miliardi di buco della Popolare di Vicenza, 118 mila piccoli risparmiatori arrabbiati, non so quanti di questi dipendano da Zonin, ma molti di questi pretenderanno risarcimento patrimoniali, potranno aggredire il patrimonio di Zonin se dovesse venire considerato responsabile dai magistrati e la sua azienda morirà, perché è evidente che un'azienda gestita da una famiglia da anni può avere un senso, quindi noi avremo un doppio danno che Zonin ha distrutto il tessuto economico e finanziario di quel paese e i risparmiatori, giustamente per chiedere un risarcimento, distruggeranno le aziende di Zonin che ovviamente verranno smembrate, purtroppo come la giri, la giri male, anche perché se questo non dovesse avvenire e io fossi un risparmiatore da Popolare di Vicenza e vedo che i figli di Zonin hanno intatto il loro patrimonio perché il padre se ne è spossessato due anni prima, cioè in piena crisi di Popolare di Vicenza, beh non penserei davvero che questa sia giustizia in un paese normale. Direi che per ora è tutto, per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre oggi a male non fare patrimonio non ordinare, ma bira è un piccolo problema perché questo paese cosa ci insegna? Ci insegna che purtroppo se hai certi ruoli rischiano di toglierti il patrimonio ancora prima di aver dimostrato la tua colpevolezza e questo è sbagliato. Ci vediamo questa sera a 105 Matrix alle 19. Ciao!